buongiorno come una volta l'agonia del mattino eh allora vai io faccio colazione dentro a te oggi è? oggi è sabato 6 giugno oggi è San Norbetto Vescovo San? San Norbetto Vescovo Norbetto sai chi era Norbetto? un grandissimo artista di Spello Norbetto sei mai stato ad Assisi tu? Assisi dove c'è San Francesco? Orbietto ad Assisi sei stato? Perugia sono stato a Orbietto ma io ti ho chiesto a Assisi oh guarda che c'è Meloccaro buongiorno Meloccaro stiamo facendo l'agonia adesso lo stavo chiedendo ad Assisi davanti alla cattedrale c'è un San Francesco a cavallo enorme quel San Francesco cavallo lì è stato scolpito da Norberto Norberto è uno scultore artista di... io l'ho sempre detto che questo era uno degli unici posti dove si fa cultura vera cultura vera pronostico? 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 sensazione? sensazione? positiva quando comincia un ciclo... capito? cioè devi portare a termine... è il contrario di quando ti dice male ti mozzicano le pecore come dicono a Roma quando ti dice male ti mozzicano le pecore il contrario quando ti dice bene c'è c'è un detto c'è un detto di quando uno mi va tutto bene quando ti dice bene te va l'acqua per l'orto te va l'acqua per l'orto ecco ma sempre a Romolo dicono quando si dice bene te va l'acqua per l'orto quindi alla Juve gli dice tutto bene vincerebbe pure Sanremo detto se la Juve si presentasse in coro a fare un coro vincerebbe Sanremo vero a proposito di Sanremo diciamo il pezzo di agonia di oggi che ci canta mentre noi ci prendiamo il caffè che lui deve stare da solo eh fai tu presentati fai tu vieni oh verocca non lo facciamo le pezioni di oggi facciamo il caffè la pezzone quello che facciamo quello di Albano da un bambino io sognai due moto e marinai nella nebbia attreggia fai niente di libertà questa la dedichiamo Albano e Romina che non ha si.' era il caffè la recensione di oggi ha non fa l'orto un caffè non vero parola il caffè è il caffè il caffè il caffè Due uomini marinai E la nebbia ha preso già la mia idea di libertà Aria pura per respirare E intanto ci sarà Perché ci sarà Aria pura per respirare Dopo il giorno E' la prima volta E' la prima volta Sì E' la prima volta Su Rai 1, Presidente Frizi, Rita dalle chiese, come dire, 15 giugno la posta del cuore. Ma che stai dicendo? Che fai? Che dici? Frizi, come dire, 15 giugno. Ma tu lavori per Rai 1? No. Chiudiamo? Allora, più tardi siamo in diretta, su Periscop, con Stefano Melocca. Sì, c'è Torrice Alculto, in Celso Mollico. A lui e mezza c'è Torrice Alculto e lui è Rai 1. E questa sera? E questa sera c'è la Chinette. Dice, dove fanno? Allora, c'è sia su scato che su Rai 1. No, ma canale 5. Ah, canale 5. E l'anno prossimo mi stai tutta canale 5. L'anno prossimo canale 5? Sì, l'anno prossimo diventa più importante l'Europa Lega. Perché? Sì, c'è la Pasquetta. Ah, domani sera c'è dopo... Sì, c'è la Pasquetta. giornata, grazie. Sì, sì, c'è la Pasquetta. la marifera c'è ho capito ma tutto questo ti ricordi una cosa che c'è agonia salutiamo ci vediamo in diretta su Periscope dopo ciao